Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi siamo in un video un po' diverso dal solito, perché siamo in un video vlog. Infatti ne stiamo per uscire e andare alla festa, al festival, come si chiama, la fiera Vino Chilo, che è una fiera del vintage che si tiene alla città dell'altra economia di Roma. Io non facevo un vlog da un sacco di tempo, però siccome l'anno scorso volevo andare a questa fiera e non ci sono riuscita ad andare, quest'anno dovremmo riuscire ad andare, quindi ho pensato li porto con me, anche perché spesso si parla di abbigliamento sostenibile nel mio canale, e siccome io sono proprio alla ricerca di due o tre cose, volevo portarvi con me per farvi vedere com'è una fiera del vintage. Infatti a questa fiera appunto si possono acquistare i capi vintage, ma vi porterò con me e vi spiegherò tutto strada facendo. Per la colazione viene con noi anche lei. Peggy! Amore! Non ci sente bene. È un po' vecchietta, un po' ciaccata. Dove stiamo andando a fare colazione? Ma un po' mi senti, amore. Bravo! Ovviamente neanche a farlo apposta sta avvenendo il diluvio, ma perché è giusto che sia così? Non lo so, io ho una percentuale di condizionare le previsioni meteo in questi ultimi mesi della mia vita da 90-10, cioè nel senso 90% se io devo fare qualcosa pioverà, al 10% ci sarà il sole. Vediamo che questo posto sia al chiuso, cioè non lo so com'è fatto. Tra l'altro io ho fatto i biglietti online, ma su un sito random che ho trovato non so effettivamente se c'è bisogno di fare i biglietti. So soltanto che abbiamo l'entrata dalle 11 alle 12 e spero che sia così, non so neanche io come funziona, non ci sono mai stata. Vabbè, insomma, vedremo insieme. Peggy mi guarda e diceva. Non penso. Peggy mi guarda e diceva. Peggy mi guarda. Peggy mi guarda e diceva. Peggy mi guarda e diceva, non so i key mi guarda e diceva però. ora stiamo girando un po le cose sono messe un po che si capisce poco però però qualcosa stiamo vedendo e faccio vedere alla fine ho preso solo questa camisetta qui e poi ho preso questa camisetta molto carina siamo in fila per pagare abbiamo scoperto ora che c'è anche un green market grazie a tutti grazie a tutti